ci siamo messi al calduccio in macchina oggi comunque fa freddino ho già fatto i due lipo precedenti il drone è tornato congelato il suo spot è bellino c'è un grande parcheggio un po di alberi poi ci sono in fondo i palazzi che li ho fatti in un'altra lipo non sono male adesso stavo controllando un po' i PID per vedere come va questa camera della DJI compresa da poco ma io ho optato per DJI un disastro questo è un 2k i7 60 fotogrammi ma anche qua c'è anche il parcheggio sottostante con i 10 motorini tonnell bellino bellino mi piace sto posto ho fatto una batteria un po' veloce un po' un casino non c'è una linea ancora perché devo studiarne non è male non è male devo tornare seguo e torniamo alla base un po' di ansia c'è perché comunque sei da solo vabbè al prossimo video ragazzi ciao 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 ciao